Lo sapevi che in Molise si parla croato? In questa regione infatti esiste una piccola comunità che parla un idioma slavo ed è considerata la più piccola minoranza linguistica in Italia. Ci troviamo più precisamente in provincia di Campobasso, nei paesi di Acquaviva con le Croce, Montemitro e San Felice del Molise, paese però in cui la lingua croata è scomparsa quasi del tutto dal settore pubblico ed usata in famiglia solo da alcuni anziani. Queste colonie risalgono molto probabilmente al XV e XVI secolo, periodo in cui molti abitanti della costa d'Almata, in fuga dalle invasioni turche che risalivano la penisola balkanica, si stabilirono lungo le coste e nell'entroterra tra le regioni delle Marche e della Punida.